Un ventenne di Sanremo ubriaco si avvicina dei giovani seduti al tavolo di un bar a Ventimiglia per chiedere una sigaretta e la risposta è negativa in quanto non fumatori, il giovane si scaglia contro un 27enne ventimigliese colpendolo con numerosi pugni in faccia. Un'aggressione terribile e assurda avvenuta nella notte tra venerdì e sabato e filmata dalle telecamere a circuito chiuso del locale. Un video risultato molto utile ai poliziotti del commissariato di Ventimiglia per identificare e rintracciare il responsabile del gesto criminale costato alla vittima la frattura del setto nasale e una prognosi di 25 giorni. Con l'aggressore all'interno del locale c'era un altro ragazzo mentre fuori ad attendere si trovavano anche altri amici, immediatamente rintracciati da una pattuglia del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. Il responsabile è stato rintracciato grazie anche all'analisi di alcuni profili Facebook ed è stato denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali gravi. L'intervento della Polizia è stato praticamente immediato in quanto grazie ai servizi di prevenzione predisposti dal questore d'imperio Cesare Capocasa nel territorio erano presenti numerose pattuglie.